L'Infiniti Q50 è una berlina elegante che rientra a pieno titolo nel segmento premium e regala prestazioni di rilievo attraverso la potenza silenziosa del motore ibrido. Ecco le caratteristiche di questa vettura giapponese di lusso. Infiniti Q50, design interni. L'Infiniti Q50 è una berlina sportiva di fascia media che persegue tre obiettivi, per come viene presentata dalla casa e infatti la vettura. Vuole essere fonte di ispirazione, offrire esperienze elettrizzanti e oltrepassare il potenziale collettivo. Prodotta dal 2013, è oggi uno dei modelli più importanti della gamma, esteticamente, si presenta con un frontale atletico dominato. Da una griglia a doppio arco che le conferisce un look sofisticato e sportivo. Lunga 4,78 metri, affiancate che terminano con un'onda a livello del montante posteriore, fino alla coda che termina nel cofano del bagagliaio sagomato a formare uno spoiler. Oltre alla cromatura con il logo Infiniti che collega i gruppi ottici posteriori. La raffinatezza dell'Infiniti Q50 continua anche all'interno, dove si apprezza una pregiata artigianalità nelle finiture sportive. A completare il disegno dell'abitacolo che riprende le linee sinuose degli esterni. La plancia infatti è ondulata e raggruppa i principali comandi al centro, compreso il sistema di infotainment Infiniti in touch dotato. Di doppio schermo Touch Schren Infiniti Q50, motori e prestazioni. Il motore dell'Infiniti Q50 è un benzina ibrido abbinato all'elettrico 3,5 V6 con 364 CV e cambio sequenziale 7 rapporti. La vettura promette percorrenze sui 12,7 km litro per la versione a trazione posteriore, che scendono a 12 km per litro per quelle a WD. Le prestazioni sono però degne di nota. La casa giapponese infatti dichiara solo 5,1 secondi per andare da 0 a 100 km orari, che per un auto di circa 1800 kg non sono male. Prima auto al mondo ad adottare il sistema di sterzo elettronico Direct Adaptive Steering, in cui la frizione scollega il comando. Dalle ruote con quattro diversi settaggi di correzione, offre di serie per tutti i modelli diversi o DAS. Infiniti Q50, allestimenti e prezzi. Gli allestimenti per l'Infiniti Q50 sono tre, la base Lux, lo Sport e lo Sport Tech, questi ultimi due sono i più sportivi. Tra gli optional troverete il tetto elettrico in vetro 1100 euro, di serie solo sulla Sport Tech, e due tipi di vernice metallizzata. Due punti normal 1000 euro, speciale 1650 euro. In generale, la dotazione di serie non è il top rispetto ai prezzi che partono da 51.990 euro della versione base fino ai 63 minore di Dodge, maggiore di 400 euro della top di gamma. Una curiosità, per la Infiniti Q50 esiste anche una versione denominata All Rouge, presentata nel 2014 al Salone Automobilistico di Detroit. Nuovi allestimenti aereodinamici in carbonio, potente impianto frenante e carrozzeria rossa, sono le caratteristiche estetiche che nascondono un 3,6 V6 biturbo della Nissan GT-R da 568 CV. Scopri anche l'Infiniti Q30.